Siamo a bordo dell'elicottero A109 Nexus della Guardia di Finanza, Volpe 305. Adesso ci alzeremo per uno dei giri di perlustrazione di controllo in questo giorno di Pasquetta. Sono le 9 di mattina e stiamo partendo dall'aeroporto di Tessera, dalla sezione volo della Finanza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.